Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Sono ore difficili per la giovane cantante italiana, finita in ospedale dopo un intervento al femore a causa del quale dovrà inevitabilmente prendersi una pausa dal lavoro. L'artista ha scelto di condividere sui social una foto di lei in ospedale e ha fatto sapere ai suoi fan che tutto è andato bene, ma vista la portata dell'intervento, si concederà un lungo periodo lontana dalle scene. La giovane cantante italiana Ariete, in nome d'arte di Arianna Del Giaccio, è stata ricoverata a seguito di una delicata un'operazione al femore. La giovane ventunenne, 22 a marzo, è stata una delle protagoniste di Sanremo 2023 con la canzone Mare di Guai, una ballata in cui racconta la fine della relazione con la sua precedente fidanzata. A causa del delicato intervento Ariete sarà costretta a mettere in pausa la sua carriera artistica. La cantante romana non ha fornito dettagli sulla natura di questa operazione, ma ha parlato di uno stop programmato da tempo, rimandato poi per concentrarsi sul lavoro.